Ben trovati con il TG List di Telebari, crisi dell'automotive nel capoluogo pugliese. L'eurodeputato Antonio De Caro ha depositato una interrogazione prioritaria con richiesta di risposta scritta alla Commissione europea sulla crisi del settore componentistica automobilistica e tutela dei lavoratori nell'area industriale di Bari. L'eurodeputato pugliese ha posto una serie di quesiti su come la Commissione europea intenda far fronte alla crisi dell'industria automobilistica e alle forti ripercussioni sui sistemi produttivi locali, con gravi conseguenze soprattutto per i lavoratori del settore della componentistica. Un elenco di aree a rischio per le quali si è presentata l'esigenza urgente del monitoraggio. E' partita da qui l'analisi che ha portato alla definizione delle strade da dotare di nuovi impianti di videosorveglianza a Bari. Si tratta di via Tatarelle, piazza di sfida di Barletta, il sottopasso di via delle Murge e ancora vicinanze Palaflorio a Iapigia, l'impianto sportivo Leo dell'Acqua Carbonara o Villa Bonomo su via Mendola. Tutte strade, e questa ne è solo una piccola parte, che a stretto giro potranno contare su nuovi sistemi di monitoraggio per un importo complessivo pari a 523.000 euro. Attraverso la scansione della targa sarà possibile risalire a irregolarità derivanti da autorubate poste sotto sequestro o inserite nella blacklist della polizia. E adesso le altre notizie del TGLIS. Rete ferroviaria italiana di intesa con la prefettura di Bari ha avviato i lavori per rinforzare e inalzare la recinzione del centro di accoglienza per i chiedenti asilo di Bari, il CARA, che si trova a ridosso dei binari ferroviari a nord della città. In passato quella tratta è stata più volte interessata, proprio all'altezza del centro, da incidenti e pesanti ripercussioni sulla circolazione dei treni, perché in diversi casi i migranti scavalcavano la recinzione del centro e attraversavano i binari per andare in città. Tifosi della Fiorentina erano diretti a Lecce per la partita di domenica alle 15 a Via del Mare, quelli della Fidelisandria a Nardò per il match della loro squadra in serie D. Attorno alle 13 di domenica gli scontri tra supporter sono partiti sulla statale 16 di Bari, creando disagio al traffico, dovuto anche ai lavori all'altezza di Torriamare. Fra le auto incolonnate esplosa una rissa nella quale i tifosi poi si sono affrontati a volto coperto usando anche mazze e catene. Alcuni pulmini di tifosi andriesi sono stati distrutti, segni degli scontri sono ancora visibili dai vetri presenti sull'asfalto. Sul posto è intervenuta la polizia. La siccità non dà tregua per questo motivo Acquedotto Pugliese ha deciso di mettere in campo nuove misure per affrontare il problema. Nonostante la tecnologia degli ultimi anni e le azioni di risparmio fa sapere Acquedotto, le scarse piogge e le temperature oltre la media nei territori dove sono state situate le fonti interregionali da cui si approvvigiona la Puglia continuano a ridurre la disponibilità di acqua e l'osservatorio permanente dell'autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale ha aumentato il livello di severità idrica per il potabile in Puglia, da basso a medio, rendendo così necessari nuovi interventi. Se la siccità dovesse continuare, riferisce ancora Acquedotto, entro poche settimane la quantità di risorsa idrica potrebbe essere insufficiente a soddisfare la domanda. Quindi da oggi Acquedotto avvia riduzioni di pressione su tutta la rete. Martedì 22 ottobre in occasione dell'arrivo del Frecciarossa Bari Centrale sarà attivo lo stand della prevenzione dell'Istituto Tumori ai Binari Ovest. Presente al punto stampa alle 11.30 anche la testimonial Manuela Vicenta, ex sciatrice e campionessa olimpica. Iniziativa in collaborazione con Ferrovie dello Stato, Fondazione Incontra Donna, Sport e Salute. E adesso le notizie dall'area metropolitana e dalla regione. Nuove assunzioni in arrivo per la ASL di Lecce. La regione Puglia ha dato il via libera a 222 assunzioni per il prossimo anno. Si tratta di concorsi da fare per 133 medici, 39 infermieri e 50 operatori sociosanitari. Ma il sindacato si dichiara insoddisfatto. Per Francesco Perrone, segretario territoriale e regionale di FSI USAE, si tratta di un piccolo contingente che non copre adeguatamente i vuoti di organico, tanto più che in programma l'apertura dei nuovi servizi, centri territoriali, case e ospedali. Un arresto, tre denunce e cinque sequestri in tutta la provincia. Il bilancio delle attività di contrasto al bracconaggio eseguita dai carabinieri forestali del Salento. L'episodio più grave è avvenuto a Copertino, dove un 67enne è stato sorpreso mentre cacciava in località Vignali, utilizzando un fucile con la matricola di canna a brasa. L'uomo inoltre non aveva il porto d'armi, è stato arrestato e posto ai domiciliari. A Francavilla Fontana i carabinieri hanno arrestato in fragrante un 47enne, già noto alle forze dell'ordine per detenzione illegale di armi, munizioni ed esplosivi e detenzioni e fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il tutto nascosto in un vaso ricavato nella base del caminetto, a cui si accedeva spostando una mattonella. Sequestrati anche 33 chili di esplosivo confezionato in ordini artigianali e 250 grammi di cocaina. Il sindaco di Avetrana non ci sta il prossimo 25 ottobre e sarà trasmessa in streaming su Disney Plus la serie TV Avetrana, qui non è Hollywood, realizzata dalla casa cinematografica Groenlandia SRL, che racconta il delitto della giovane Sara Scazzi. È stato però depositato un ricorso cautelare d'urgenza da parte del comune tarantino per chiedere una rettifica del titolo e la sospensione immediata della serie. Il primo cittadino, Antonio Iazzi, ha spiegato le motivazioni in una nota stampa. La stessa comodità ha da sempre cercato di allontanare da sé i tanti pregiudizi dettati dall'omicidio, dal momento che la tragedia destò sgomento nella collettività interessata da un'imponente risonanza mediatica che è stimololente a costituirsi parte civile nel processo penale a carico di Michele Misseri fino alla condanna degli imputati al risarcimento del danno all'immagine in favore del comune di Avetrana per una serie di riflessi negativi sulla collettività. E con il TGLIS è tutto, grazie per averci seguito, buon proseguimento. Grazie a tutti.